persone che ancora non conoscono Gesù, tutte quelle persone che sono disperate. Oggi ascoltavo una trasmissione, mentre ero a casa, ascoltavo una trasmissione in tv. Sentivo parlare una donna, che prima era un uomo, poi è diventata una donna, non so come succedono queste cose, comunque. Diceva questo, parlava delle persone dello spettacolo, tutta questa persona insomma che sono nel mondo dello spettacolo, che tutti quanti fanno uso di psicofarmaci. E lei diceva, boh, io non sono arrivato a fare uso, perché è una cosa comune, comunque dice fare uso di psicofarmaci, soprattutto dice di coloro che siamo nel mondo dello spettacolo, del teatro. Diceva questo come se fosse una cosa comune fare uso di psicofarmaci, la confusione che c'è, la mancanza di identità che le persone hanno. E io credo che Gesù sta guardando tutte queste cose, Dio sta guardando l'umanità. Riflettevo in questi giorni, intanto vi porto i saluti, vi mando i saluti di mia moglie, mi ha detto oggi pomeriggio di salutarvi. Riflettevo come tante volte siamo distanti e siamo diventati anche come cristiani insensibili al bisogno delle persone. Non ci rendiamo conto del bisogno che c'è nella vita delle persone, il grido che c'è nella vita delle persone. E talvolta questo grido è silenzioso, è un grido dell'anima. Non è un grido delle corde vocali, ma è un grido dell'anima che le persone hanno. Io credo personalmente che la Chiesa deve cambiare la sua prospettiva di veduta. Molto spesso noi guardiamo i nostri santuari, i nostri locali, senza guardare quello che Dio sta guardando e senza amare quello che Dio ama. La Bibbia dice che Dio ha tanto amato le persone che sono sulla faccia della terra al punto tale che ha fatto una pazzia secondo l'uomo umano che è quella di sacrificare l'unico figlio che aveva, non ne aveva due, non ne aveva tre, non ne aveva quattro, ma la Bibbia dice che l'unico figlio che aveva lui l'ha sacrificato per la salvezza delle persone. Quindi per dare la possibilità alle persone di essere salvate, di essere riscattati dal vano modo di vivere e di conseguenza portare gioia nella vita delle persone. Allora io credo che questo tempo per la Chiesa di Cristo è un tempo di transizione, un tempo di cambiamento, un tempo dove dobbiamo riflettere, un tempo dove dobbiamo misurarci, un tempo dove dobbiamo riesaminarci e un tempo dove dobbiamo iniziare a fare sul serio con Dio. E fare sul serio per Dio. Quindi significa fare sul serio con Dio, è il nostro rapporto con Lui, è fare sul serio per Dio, è il nostro servizio che noi rendiamo a Dio. E quindi non possiamo di questo tirarci indietro perché abbiamo una responsabilità a tutti quanti noi che è quella di predicare l'Evangelo ad ogni creatura. E questa sera io voglio partire proprio dall'Esodo, c'è una parte della scrittura molto bella, la Bibbia dice in Esodo al capitolo 3 versetto 5 che Dio chiamò Mosè mentre lui stava lavorando, stava pascolando il greggio di suo suocero, si trovava in montagna, e Dio attraverso il fuoco, un roveto ardente, Dio attira l'attenzione di Mosè. E la Bibbia dice che Mosè era seduto, che guardava il greggio pascolare, vide un roveto ardente, che non si consumava, e quindi dice ma come mai questo roveto non si consuma? E quindi si alzò per avvicinarsi a questo roveto per vedere la scena. Dice come mai questo roveto non si consuma? Quindi Dio è sempre pronto per attirare l'attenzione dell'umanità, dei suoi figli. E quindi è importante che ciascuno di noi stiamo attenti perché Dio vuole attirare la nostra attenzione. E il versetto 5 dice Dio disse non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi perché il luogo sul quale stai è un luogo santo. Poi aggiunse Dio si presenta sempre. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Giacobbe, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe e Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Poi l'Eterno disse ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto. Ascolta voglio dirti una cosa. Prima che tu venissi alla salvezza Dio stava guardando l'afflizione che stavi attraversando e ha fatto quella che umanamente per l'uomo è pazzia mandare suo figlio per riscattarti e liberarti da quello che tu stavi attraversando. E io ricordo, posso parlare della mia testimonianza, io ricordo la condizione come ero prima di conoscere Dio. e tante volte ho detto ma dov'è questo Dio, dov'è questo Signore che mi hanno dato da credere che c'è un Dio? Perché Lui mi lascia in questa condizione? Perché io sto attraversando questa difficoltà? Perché mi è accaduto tutto questo? Perché? Tante volte mi chiedevo perché e dicevo ma dov'è questo Dio? E pensavo che fosse disinteressato ai miei bisogni, al mio grido. ma la Bibbia dice, afferma ancora tuttora nell'anno 2020 dice ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto l'Egitto biblicamente rappresenta oggi la schiavitù e io credo che Dio sta guardando quanto persone stanno gridando a Lui quanto persone sono nel bisogno quanti giovani sono nel bisogno quanto persone anziane sono nel bisogno quanto persone ammalate sono nel bisogno e stanno gridando e stanno attraversando un momento di afflizione e la Bibbia dice che ho udito Dio ha udito il suo grido ci sono gride che salgono dal di dentro e ci sono anche grida che si fanno con le corde vocali con la voce con la bocca ma tante volte il grido interiore della ferita dell'anima del conflitto e della crisi dell'anima è molto più forte di un grido che noi possiamo fare con la nostra bocca con le nostre corde vocali e tutti quanti noi io credo che l'umanità cari fratelli c'è un grido dentro l'anima di ogni persona perché mi sta accadendo tutto questo una persona che fa uso di stupefacenti è una persona che nella sua anima in fondo in fondo sta gridando aiuto sta gridando soccorso sta chiedendo a suo modo aiuto non sa come ricevere aiuto perché molto spesso non c'è stato qualcuno che ha predicato la verità non è andato per le strade non ha raggiunto questa persona a dire che il grido che lui ha nella sua anima lo può colmare lo può zittire può guarire solo Cristo Gesù ci sono persone che stanno attraversando momenti di difficili forse attraverso una malattia forse un cancro forse una separazione del matrimonio una qualsiasi cosa e dentro l'anima di una persona c'è un grido tremendo che stanno gridando a dire perché mi sta accadendo tutto questo pensate ad immaginare una persona un papà una mamma che ha un figlio che ha un tumore un cancro è un papà che è una mamma che sente la notizia dal medico che gli dice guardi che suo figlio avrà un mese di vita 30 giorni di vita come può essere il cuore di un papà e di una mamma che arriva una notizia del genere quando ti vengono ti viene detto suo figlio mi dispiace signore mi dispiace signori miei cari suo figlio ha 30 giorni di vita non possiamo fare niente e ti allargano le braccia cosa c'è nell'anima di una persona prova a immaginare a fantasticare arrivarti una notizia del genere come affronti e come sarebbe il tuo stato d'animo sicuramente dice signore perché aiuta mio figlio e chissà sulla sfera della terra sulla faccia della terra quanto persone ci sono che si trovano in questa situazione in questa condizione quanto persone ci sono che non hanno soldi per poter arrivare a fine mese quanto persone anziane ci sono che hanno versato fior di contributi sono andati in pensione e hanno preso soltanto pochi spiccioli come pensione non riescono ad andare a arrivare a fine mese a coprire le spese non riescono a mangiare non riescono a pagare le bollette non riescono a pagare l'affitto quanto persone ci sono disperate che stanno gridando c'è un grido che Dio sta ascoltando ma Dio si è dovuto aprire con Mosè dicendo Mosè io ho udito il grido del mio popolo ho visto l'afflizione che il mio popolo sta attraversando in Egitto e poi dice ancora dice conosco o dite il suo grido a motivo dei suoi oppressori sai noi tante volte pensiamo l'oppressione è una persona che ci opprime che ci stressa ma non è la persona che ci oppressa che ci stressa sono demoni opprimenti demoni di malattia demoni di povertà demoni di separazioni demoni di divorzi demoni di schiavitù che opprimono le persone opprimono l'umanità e ci sono persone che sono schiacciate da queste da queste schiavitù e persone che stanno gridando e ti stanno dicendo perché sto attraversando tutto questo perché mi è successo tutto questo perché è giusto a me tutto questo sta gridando perché sono sotto oppressione e Dio ha dovuto aprire il suo cuore a Mosè dicendo versetto te lo rileggo il versetto 7 poi l'Eterno disse a Mosè si sta aprendo sta aprendo Dio sta aprendo il suo cuore a Mosè e gli sta dicendo ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori poiché conosco le sue sofferenze sai una cosa Dio conosce quello che tu stavi attraversando e Dio ha mandato un liberatore il primo liberatore è Cristo Gesù ma ha mandato anche una persona per evangelizzarti c'è stato qualcuno che ti è venuto a liberare qualcuno che ti ha portato Gesù qualcuno che ti ha portato la chiave ti ha portato Gesù perché tu uscissi da quella prigione e non fossi non fossi più schiavo dai vizi dal peccato dalla condizione del peccato Dio ha dovuto parlare con qualcuno ha dovuto muovere i passi di qualcuno ha dovuto dirigere i passi di qualcuno ha dovuto usare la bocca di qualcuno ha dovuto usare la vita di qualcuno per liberare la tua vita da quella condizione in cui vivevi e io credo che questo è tempo dove Dio vuole parlare alla sua Chiesa perché la sua Chiesa possa essere un mezzo per portare la chiave Cristo Gesù alle persone per liberare le persone dalla schiavitù dall'oppressione perché ci sono tante persone che sono schiave tante persone che sono in una condizione di miseria di povertà e tu forse non te ne accorgi tu forse non sai quello che le persone attraversano ma Dio sa quello che attraversano le persone la Bibbia dice che gli scrute i nostri pensieri forse ci sono persone che stanno pensando al suicidio giovani che già vent'anni pensano di togliersi la vita perché già hanno passato tutte hanno fatto sesso hanno scambiato un letto di qua un letto di là si sono fatti hanno preso pasticche si sono drogati ormai non ho più niente mi tolgo la vita perché la mia vita è senza è priva di soddisfazione è priva di motivazioni e Dio sta guardando cosa passa per la mente di questi giovani cosa passa per la mente di questi padri di famiglia cosa passa per la mente di una donna che è stata abbandonata per una donna che non arriva riesce ad arrivare a fine mese per una donna che viene maltrattata per una donna che viene calpestata nei suoi sentimenti e Dio sta guardando e sta scrutando tutto quello che passa per la mente delle persone e Dio sta dicendo alla sua chiesa posso parlare con te posso rivelarti qual è il mio desiderio per l'umanità questo è quello che Dio fece attirò l'attenzione di Mosè per rivelarci quello che lui già vedeva e quello che lui sapeva dice ho visto l'afflizione del mio popolo ho visto come gli egiziano primano il mio popolo e sono sceso per liberarlo ma non andrò io andrei tu Dio gli disse a Mosè io ho scelto te per liberare il mio popolo dalla schiavitù degli egiziani potrebbe Dio dire la stessa cosa questa sera a te io sono sceso per usare te per liberare il mio popolo dalla schiavitù potrebbe Dio scendere questa sera e dire io voglio liberare la tua scuola voglio usare te per liberare la tua scuola potrebbe Dio scendere e dire io voglio usare te per liberare i ragazzi che sono nella tua scuola dalla schiavitù della droga dalla pornografia dal fumo dall'alcol da tutte le porcherie potrebbe Dio scendere questa sera e parlare con ognuno di noi per dire io voglio usare te perché nella tua università voglio guidare questi giovani fuori da questa schiavitù siamo disposti a rispondere Dio scese e parlò con Mosè gli rivelò quello che c'era nel suo cuore quello che c'era nella sua mente quello che lui vedeva e che Mosè non vedeva però ma Dio lo vedeva e Dio ha dovuto parlare con Mosè Dio gli ha dovuto rivelare a Mosè qual era la condizione del suo popolo c'erano delle promesse sul popolo di Israele Dio guardava la condizione del popolo di Israele ma aveva bisogno di qualcuno che spendesse la sua vita per liberare il popolo di Israele fuori dall'Egitto e Mosè rispose con delle scuse come tanta volta noi facciamo delle mettiamo davanti a noi delle scuse e Dio gli dice Mosè gli dice così Mosè si faceva continue domande e diceva chi sono io per andare dal faraone e la stessa domanda forse te la fai tu ma cosa posso fare io per liberare le persone ma chi sono io per andare dai miei compagni dai miei vicini per andare nella città a liberare le persone dalla loro condizione loro mi conoscono per gli errori che io ho fatto loro mi conoscono per quello che io ho commesso per i peccati che ho commesso ma c'è un piano e c'è un proposito per la sua chiesa per i suoi figli che tu devi essere un liberatore come Mosè è stato un liberatore per la vita di tante altre persone Mosè disse chi sono io per andare dal faraone Mosè aveva paura del faraone Mosè aveva difficoltà ad affrontare il faraone come tu e io abbiamo tante volte difficoltà ad affrontare il faraone ma la Bibbia dice che colui che è in te è più forte e più grande del faraone ovvero è più forte e più grande dello spirito di questo mondo il problema non è Dio il problema non è il faraone è il tuo modo di pensare è quello che tu hai messo nella tua mente come tu ti vedi cosa credi di te stesso cosa credi Mosè non aveva una stima buona di se stesso e diceva chi sono io per andare dal faraone e continuamente Mosè discuteva con Dio manda qualche altro manda quell'altro manda questo manda mio fratello Dio ha detto no io ho scelto te io parlerò con te e Aronne tuo fratello sarà la bocca la tua bocca e se Dio ha scelto te tu non puoi sottrarti dalla chiamata che Dio ha per la tua vita c'è un popolo che sta gridando che sta soffrendo ecco il grido dei figli di Israele è giunto fino a me e ho pure visto l'afflizione l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono quanto persone ci sono oppresse quanta persone vivono sotto schiavitù quanto persone hanno pensieri di condanna mancanza di perdono quanto persone pensano negativamente quanto persone hanno bassa stima quanto persone pensano di non farcela quanto persone hanno sbagliate e pensano che per loro non c'è più speranza non c'è più futuro quanto persone pensano per loro matrimonio non c'è più niente quanto pensano che non ci sia più niente da fare quanto bambini pensano che per i loro genitori non c'è più speranza ma non è per Dio questo pensiero Dio sta guardando il grido che c'è nella vita di ogni persona e sta aspettando qualcuno che dice Signore come disse Isaia eccomi Signore manda me la prima cosa che fece Dio chiamò Mosè sul monte Sinai lo appartò e lui fece un incontro con Dio Mosè fece un incontro con Dio e desiderava che l'incontro che Mosè aveva fatto con Dio lo potesse fare tutto il popolo ora qualche volta io mi faccio una domanda spero che non vi offendete nessuno credo che quando noi non sentiamo il desiderio di parlare alle persone di Gesù o quando non sentiamo il peso di Dio che mette nella nostra vita di parlare alle persone di Gesù è perché tante volte è mancato un incontro reale con Dio è stato soltanto un incontro emozionale ci siamo entusiasmati dal momento in cui abbiamo detto Gesù oh tu mi hai risolto un problema tu mi hai tolto da questa situazione grazie meraviglioso tutto si ferma là ma quando c'è un reale bisogno quando c'è un reale incontro con Dio sai cosa avviene che Dio trasferisce il suo cuore nel tuo cuore perché c'è un faccia a faccia e Dio non può fare altro che prendere quello che c'è nel suo cuore e riversarlo nel tuo cuore perché sei diventato tutt'uno con Dio e lui ti fa sentire i suoi sentimenti lui ti fa conoscere i suoi progetti perché la Bibbia dice che Dio non fa niente se prima non ha rivelato i suoi segreti ai suoi servi ai profeti e io credo che quando noi abbiamo una reale esperienza con Dio riusciamo a sentire il cuore di Dio riusciamo a percepire l'intenzione di Dio la facciamo nostra e quindi è come marito e moglie quando sono insieme hanno affinità l'uno con l'altro e quando si distaccano sentono questo distacco dell'anima e io credo che il credente con Dio deve diventare tutt'uno Gesù per Gesù la cosa più terribile che lui stava attraversando non era tanto la sofferenza nel corpo ma bensì il distacco di Dio padre mio padre mio perché mi hai abbandonato in quel momento quello che realmente faceva soffrire Gesù era il distacco dal padre perché la Bibbia dice Gesù dice chi ha visto me ha visto il padre lui e il padre erano tutt'uno e il padre gli rivelava Gesù quali erano le intenzioni del padre ma la stessa cosa può avvenire del padre con noi siamo disposti ad avere il nostro cuore aperto a dire padre fammi conoscere i tuoi sogni quello che tu vuoi fare fammi sentire signore il dolore e le sofferenze che tu provi per le persone che ancora non ti conoscono per l'umanità per tutte quelle persone che sono con la testa in pallone perché non si sta capendo più niente cosa sta succedendo il panico che c'è nella vita delle persone il distacco sociale l'altro giorno stavo camminando in città prima ancora che ci fosse l'ultima ordinanza stavo camminando ero senza mascherina e una persona anziana mi veniva eravamo sul marciapiede io stavo passando vicino a quella persona quella persona si è fermata mi guardavo ho detto al che siccome eravamo vicini eravamo nel marciapiede io ho fatto spazio quando mi sono allontanato quella persona come dire ok adesso posso andare avanti la paura che c'è il panico che c'è ora io non sto dicendo che non dobbiamo prendere delle precauzioni che non dobbiamo rispettare quello che è l'ordinanza ma dobbiamo stare attento perché il virus più pericoloso è la paura è l'insicurezza quello è il virus più pericoloso la paura è l'insicurezza l'attacco mediatico che c'è delle informazioni uno ti dice una cosa uno te ne dice un altro e poi ci sono le interviste e poi ci sono il dibattito e poi c'è questo e tutto questo è un bombardamento per opprimere le persone per mettere paura è insicurezza ahimè è la cosa più preoccupante tante volte perché questa avviene tra i figli di Dio entriamo nel panico cosa accadrà domani cosa succederà domani ma Gesù non disse che perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati e tu come credente non andrai in cielo se prima non avrai adempiuto la tua missione qua sulla terra nessuno ti potrà distruggere se prima non avrai adempiuto la tua missione qua sulla terra l'incontro con Dio al Sine aveva trasformato la vita di Mosè ed egli sapeva che un'esperienza simile era importante anche per il popolo non soltanto per Mosè per questo è importante che ciascuno di noi abbiamo un'esperienza reale con Cristo Gesù e l'esperienza reale caro e cara mia devi ricercarla devi ricercare il tempo per stare con Gesù devi ricercare il rema nel logos nella parola devi ricercare il tempo da dedicare a Dio e il tempo perché Dio possa ministrare nella tua vita non avviene così tutto scontato c'è un investimento Mosè si è distaccato dal popolo è salito sul monte e stiede con Dio ora è l'ultima volta che sei salito sul monte quando è stato? l'ultima volta che è avvenuto il distacco dal popolo perché ti sei appartato per stare con Dio quando è stato? è importante che ciascuno di noi abbiamo un tempo dove lo Spirito Santo può prendere il cuore del Padre e lo può riversare nel tuo cuore e farti sentire farti conoscere cosa c'è nel cuore del Padre farti conoscere qual è la premura del Padre qual è l'esigenza del Padre qual è possiamo chiamarle in gelgo volgare la preoccupazione del Padre per i figli di salvare l'umanità di salvare i giovani di salvare i bambini di fare crescere i bambini con una sana identità di fare crescere gli adolescenti con una sana identità di togliere il mondo dalla confusione le persone che sono nel mondo dalla confusione e fargli conoscere la verità fagli conoscere Cristo Gesù e questo Dio lo può fare se tu ed io ci prendiamo un tempo per stare alla sua presenza ok vi avevo detto che finivo prima ma non ho terminato Luca capitolo 10 dal versetto 33 Luca capitolo 10 una parte del capitolo 33 ci parla di tre persone del sacerdote dell'Evita e del buon samaritano Levita sacerdote e buon samaritano la Bibbia ci ci parla che c'era un uomo che dal Gerusalemme scendeva verso Gerico e c'era una strada tutta tortuosa era una strada tipo incanalata in mezzo alle montagne dove in mezzo alle montagne si nascondevano i ladroni e quest'uomo mentre stava passando di là i ladroni scesero presero questo samaritano gliene diedero di tutti i colori come si dice dalle mie parti lo fecero nero lo massacrarono di botte gli rubarono tutto quello che lui aveva e questo è rimasto là per la strada la Bibbia ci descrive Gesù ci descrive che passò un sacerdote una persona che poteva sentirsi tutto santo tutto che conosceva tutta la santità di Dio lo vide e passò oltre poi c'ero Levita uno della discendenza di Levi che era uno maestoso un altro religioso che conosceva la legge lo vide e passò oltre e poi invece la Bibbia ci parla che c'era un samaritano che passando da là lo vide si fermò si prese cura di quest'uomo aveva l'olio curò le sue ferite lo mise nella cavalcatura lo portò dal locandiere lo affidò al locandiere prese due denari lo liede al locandiere e gli disse prenditi cura di lui al mio ritorno quando ritornerò ti restituirò se hai speso di più te ne restituirò cosa ci vuole dire qua il Signore Gesù l'umanità durante il suo cammino è caduta nelle mani del ladrone e questo ladrone noi sappiamo chi è la Bibbia descrive che il diavolo è venuto per rubare ammazzare e distruggere e il lavoro che fa il diavolo nella società nel mondo è quello di rubare di ammazzare e di distruggere il lavoro che fa il diavolo nella vita delle persone è quello di rubare l'identità è quello di rubare la serenità è quello di rubare la pace è quello di rubare la salute l'obiettivo suo è di privare l'umanità della stessa sua vita per renderlo schiavo affinché lui possa opprimere l'umanità e sapete a volte cosa accade che noi come chiesa come cristiani sappiamo questo ma non agiamo per dire alle persone guarda che sei caduto nelle mani del ladrone a volte noi ci comportiamo come sacerdoti diciamo siamo tutti santi noi sappiamo la domenica vado in chiesa ci vado anche il mercoledì sto facendo anche gli studi mi sono fatto il corso primatrimoniale il corso banale ho fatto il ritiri spirituale è meraviglioso io so tutta la parola di Dio dalla Genesi all'Apocalisse torno indietro dall'Apocalisse alla Genesi so tutti i versetti dove metterli come è composto quanto libri ci sono nell'Antico Testamento evangeli che le ha scritte in che periodo sono stati scritti sappiamo tutto abbiamo la testa gonfia ma vediamo una persona oppressa e la lasciamo là quando dovremmo fermarci e prenderci cura delle persone qualcuno si è fermato per prendersi cura di te qualcuno ha lasciato i propri affari per prendersi cura di te qualcuno ci ha rimesso soldi per prendersi cura di te per portarti in chiesa forse per offrirti un caffè forse per invitarti a pranzo forse per portarti a mangiare la pizza era una scusa per spendere del tempo con te e l'opportunità era predicarti il liberatore ovvero toglierti dalla schiavitù del ladro dal faraone per darti una nuova vita e questo samaritano cosa fece si fermò si prese cura di quest'uomo aveva l'olio con sé gli fece un primo intervento iniziò a curare le ferite e tu ed io abbiamo l'olio dell'unzione dello spirito santo per fermarci con le persone e curare le ferite delle persone ma molto spesso noi non ci rendiamo conto dell'unzione che abbiamo nella nostra vita la Bibbia dice che dalla nostra bocca deve uscire vita che conferisce vita a quanti ci ascoltano devono uscire parole di grazia per conferire grazia a quanti ci ascoltano dalla nostra bocca devono uscire parole di edificazione per conferire edificazione a quanti ci ascoltano per dare speranza a tutte quelle persone che non hanno più speranza per la loro vita per la loro casa per il loro futuro per il loro matrimonio per la loro salute per le loro finanze per la loro economia tutto quello che le persone hanno di bisogno perché l'umanità ha bisogno di Gesù e Gesù è la risposta all'umanità non è il lavoro non è la prosperità non è una macchina non è una casa non è una posizione sociale non è fare teatro non è fare cinema non è fare l'attore ma la risposta per l'umanità è Cristo Gesù e la Chiesa dobbiamo imparare dobbiamo impegnarci a predicare Cristo Gesù alle persone ma se non abbiamo un rapporto reale con Gesù se non abbiamo fatto una reale esperienza con Gesù se non riconosciamo che è stato Gesù a tirarci fuori dalla condizione dove eravamo di cosa possiamo parlare se io penso che è stato mio padre a rendermi ricco e a darmi la vita io parlo che mio padre mi ha reso ricco mi ha dato la vita e quindi parlo sempre di mio padre dico alle persone sai mio padre era un bravo uomo o ringrazio ringrazio Dio per mio padre perché mio padre mi ha lasciato una casa o mio padre mi ha lasciato questa azienda o mio padre mi ha lasciato questi soldi e io ringrazio Dio perché mio padre mi ha messo in vita mio padre per me era tutto e sono anche spirituale perché la Bibbia dice onora tuo padre e tua madre quindi sto facendo il mio dovere riconosco che tutto quello che ho mi viene da da mio padre ma se riconosco la condizione da dove sono uscito fuori e chi è che mi ha tratto fuori dall'inganno io non faccio altro che parlare di Gesù io so io Maurizio Longo so che è che mi ha tratto fuori dalla condizione dove ero non sono stati i soldi non è stato il successo non è stata la posizione che mi ha tratto fuori dalla condizione dove ero è stato il mio Signore Gesù è stato il mio Signore non il mio Salvatore il completamento della salvezza arriva alla fine ma intanto io l'ho ricevuto come Signore perché ho riconosciuto che attraverso di Lui io potevo arrivare alla meta finale la salvezza non che mi prendo la salvezza e dico ok tu sei mio amico non sei mio Signore perché a volte diventiamo spirituale diciamo noi siamo amici di Dio anche il pastore l'ha insegnato che dobbiamo diventare amici di Gesù ma noi quando facciamo la preghiera di salvezza e di pentimento dalla nostra condizione di vita diciamo Gesù io ti ricevo come mio Signore poi dovremmo fare un break e dovremmo dire ok dopo aver adempiuto la tua parola perfettamente io ti ricevo anche come mio Signore so che questa è una conseguenza non c'è bisogno che io ti ricevo come mio Salvatore perché è una conseguenza dopo aver adempiuto la tua parola nella mia vita sicuramente io arriverò a destinazione che sarò salvato ma prima di ogni cosa dobbiamo riconoscere che è colui che ci ha tolto dalla condizione dove eravamo schiavi del peccato è stato Gesù è stato lui che mi ha liberato dall'alcol è stato lui che mi ha liberato dalla paura è stato lui che mi ha liberato dalle sigarette dal fumo è stato lui che mi ha liberato da tanti vizi è stato lui che mi ha reso libero perché ero schiavo dalla paura avevo paura se mi uccidevano perché uscivo da un determinato ambiente avevo fatto una cosa che non dovevo fare e quindi avevo paura un giorno ricordo mentre stavo uscendo di casa avevo la macchina parcheggiata di fronte a casa mia e trovo un posticchio un bigliettino appeso nel parabrezza e guardando la macchina quel bigliettino richiudo nuovamente la porta ho detto un avviso qua mi vogliono fare fuori poi ho preso forza ho preso coraggio e piano piano mi sono avvicinato alla macchina e cos'era che c'era scritta in quel postic in quel bigliettino bianco era all'inizio della fede quando mi sono salvato quando ho ricevuto Cristo era un fratello che era passato di mattina presto io ricordo apro la porta di d'ingresso della scala per uscire fuori c'era la macchina un bigliettino stavo ritornando dentro e ho respirato ho detto mamma mia che cosa c'è scritto un avviso qua mi fanno fuori poi ho fatto coraggio mi sono preso di coraggio dopo circa dieci minuti vado a guardare e cosa c'era un versetto biblico e poi il fratello mi ha detto dice no sono stato io lui non sapeva il mio passato non conosceva il mio passato e di conseguenza e di conseguenza ovviamente non ho potuto raccontare tutto però è stato lui che mi ha liberato dalla paura è stato Gesù io so Gesù da dove mi ha tratto fuori per questo è importante che parliamo di Gesù è la chiave per uscire dalla prigione si chiama Gesù la chiave per aprire la prigione è Gesù la chiave perché le persone recuperano il matrimonio la salute le finanze il lavoro si chiama Gesù non filosofia non gospel center non apostolo non pastore non profeta non chiesa non connessione si chiama Gesù perché se tu dici alle persone vieni in chiesa che la chiesa ti salva la chiesa non ti salva ti salva dal freddo perché stai a caldo ma quando esci fuori perché arrivando a un certo punto esci fuori e ti buttiamo fuori noi c'hai di nuovo freddo ma la chiave perché le persone ricevano il proprio miracolo si chiama Gesù la chiave perché le persone escano dai loro problemi si chiama Gesù è G di Genova E di Empoli S di Savona è U con l'accento di Udine 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 la chiave per le persone per uscire dai loro problemi è Gesù Sela Così leggiamo Luca ve lo leggo per esteso e andiamo verso la conclusione Luca 10.33 dice ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui lo vide e ne ebbe compassione questo mi accade a me quando vado in giro e vedo le persone provo le compassioni di Dio dico ma quanto persone ci sono da raggiungere ancora a quanto persone dobbiamo parlare di Gesù quante persone non conoscono Gesù quanto persone ci sono da raggiungere e di parlare di Gesù a volte dice ma sono annoiato non ho niente da fare vai a evangelizzare vai per le strade e vai a parlare di Gesù i connession cari servono per evangelizzare le persone non per creare un club la chiesa è aperta perché le persone puoi portare le persone in chiesa e possano ascoltare la parola di Dio perché forse per te per me è diventato scontato venire in chiesa è una forma religiosa è un'abitudine ci abbiamo fatto l'abitudine pensiamo questo canto questo canto lo facciamo secondo canto appena finisce il canto gli dice aspetta sta finendo il canto e là c'è l'offerta appena finisce durante l'offerta non ti preoccupare c'è un altro canto appena finisce il canto vedi quello là quello predicherà un'ora e mezza non ti preoccupare ma stai buono qua ci facciamo i calcoli di tutto quello che avverrà senza dire ma cosa accadrà stamattina e tu potrai portare una persona in chiesa e gli dici stai allerta perché questa mattina c'è pronto il tuo miracolo che accadrà su di te ma se non hai il desiderio di vedere le persone in chiesa o di portare le persone in chiesa e hai fatto anche tu l'abitudine la domenica di venire in chiesa e hai perso qual è lo scopo della chiesa ahimè è un grande pericolo perché lo scopo della chiesa è come la locanda il buon samaritano prese l'uomo che era caduto sulle mani dei ladroni se ne prese cura e lo portò nella locanda lo affidò al locandiere e la chiesa deve imparare a portare persone che sono cadute nelle mani del ladrone nella locanda e ti dico che tutta quanta l'umanità è caduta nelle mani del ladrone e tutta quanta l'umanità ha bisogno di entrare in una chiesa di ascoltare l'evangelo della grazia di Cristo Gesù non una filosofia non ne vogliamo intrattenere persone ma vogliamo predicare Cristo Gesù alle persone speranza per l'umanità speranza per il tuo matrimonio speranza per la tua economia speranza per il tuo lavoro speranza per tutto quello che tu hai di bisogno lui è la speranza che la trasforma in certezza ma se tu non hai sperimentato e non ci credi sicuramente neanche parlerai di Gesù avrai vergogna di parlare di Gesù ma la Bibbia dice l'apostolo Paolo dice io non mi vergogno dell'evangelo di Cristo perché esso è potenza per chi crede e quindi è importante cari miei che noi parliamo di Gesù e accostatosi lo fasciò le sue piaghe versandovi sopra l'olio e vino rappresenta l'unzione l'unzione medicamentosa poi lo mise sulla propria cavalcatura quindi si prese carico di lui lo portò in una locanda che rappresenta la chiesa e si prese cura di lui e il giorno dopo prima di partire prese due denari pagò a propria spesa e li diede al locandiere il leader dicendoti prenditi cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno qua sta parlando è figura di Gesù quando Gesù ritornerà ci sarà la ricompensa o quando Gesù ritornerà ci saranno le bastonate o ci saranno i rimproveri e Gesù disse quale dunque ti pare sia stato il prossimo di colui che cadde nelle mani dei ladroni e quello rispose colui che osò misericordia verso di lui e Gesù gli disse sta e non fare niente Gesù gli disse va e fa lo stesso anche tu amèn allora mi sono dimenticato il titolo della mia predicazione questa sera l'avete scritto bravi perché a volte noi ci chiediamo qual è la chiamata che Dio ha per me qual è la secondo te pastore la missione che Dio ha per me qual è pastore ma tu riconosci la chiamata che Dio ha per me si vede già perché ho fatto gli studi tutti gli studi qual è la mia chiamata la nostra chiamata è predicare l'Evangelo semplice la Bibbia dice che egli ci ha dato il ministerio della riconciliazione significa che noi tutti ministerio significa servizio abbiamo il compito di servire Dio riportando l'umanità a Dio l'uomo che è separato da Dio noi abbiamo il compito e la responsabilità di riconciliare l'umanità a Dio quella è la nostra chiamata o la svolgi o sarai penalizzato ma come faccio a svolgere la mia chiamata molto semplice intanto devi credere che nell'unzione del santo che è dentro di te la Bibbia Gesù sapeva chiaramente qual era il proposito per la sua vita sapeva chiaramente che dentro di lui c'era lo Spirito Santo che era usato dallo Spirito Santo e la Bibbia dice Gesù parlava di lui prese il rotolo del libro del profeta Esaia e disse così lo Spirito del Signore è sopra di me per quale motivo mi ha unto per evangelizzare la prima cosa Gesù non disse mi ha unto per fare miracoli non mi ha non mi ha unto Dio o lo Spirito Santo Gesù non disse non mi ha unto per sfamare le bocche delle persone la prima cosa che Gesù riconosceva nella sua vita che era unto per evangelizzare è il compito di evangelizzare cari miei ce l'abbiamo tutti quanti noi tutti tutti abbiamo il compito la responsabilità e il mandato di parlare di Gesù alle persone non dite che sto andando in questa chiesa che ti salva la chiesa non è la chiesa che ti salva la chiesa è un mezzo dove Cristo viene predicato e arriva alle persone ma non è il fine è un veicolo la chiesa ma il fine è Cristo Gesù e l'inizio è pure Cristo Gesù lui è il principio e la fine la chiesa è il mezzo perché Cristo arrivi alle persone quindi dice Gesù sapeva che era stato unto per evangelizzare i poveri i poveri in spirito quelle persone bisognose quelle persone che dicono voglio conoscere la verità non gli orgogliosi non noi religiosi ma i poveri in spirito quelle persone che sono che realmente sentono il bisogno di conoscere fammi conoscere la verità io prima di venire entrare in quel famoso scantinato prima io sono stato in un ero nella chiesa cattolica frequentavo la chiesa cattolica non ho avuto risposte poi sono stato mi hanno portato dai testimeno di Geova poi mi hanno portato in un gruppo di rinnovamento dello spirito santo poi mi hanno sono stato in una chiesa di scientologi che era una setta ne ho girate tutte poi sono arrivate in una chiesa cristiana io ho avvertito la presenza dello spirito santo ma come mai non l'ho trovata in altri posti perché non c'era perché è importante portare le persone in chiesa tu hai fatto l'abitudine ci hai fatto il call è come un carpentiere con il martello può stare con il martello in mano tutta l'intera giornata non sente dolori nelle mani ma se lo prendi tu dopo 5 minuti che batti ah che dolore che c'ho le mani c'ho le bolle in le mani inizia a mettere le mani così mamma mia è così guarda le mani di Pierluigi che c'hai e sai tante volte noi abbiamo fatto l'abitudine di venire in chiesa c'è il programma allora c'è questo canto poi questo poi questo poi l'offerta poi questo ah sta parlando di questo c'è quel fratello poi usciamo ci prendiamo il caffè come stai ci vediamo andiamo a mangiare al ristorante vieni a casa mia ci vediamo più tardi domani che fai ci vediamo al connection sei là diciamo wow Dio mi ha parlato devo correre a chi posso evangelizzare a chi posso andare a cercare a chi posso chiamare a chi posso mandare un messaggio per evangelizzare per incoraggiare a con chi mi posso fermare nella strada e dire sai una cosa Gesù ti ama sai una cosa Gesù vuole fare qualcosa di meraviglioso nella tua vita no cosa facciamo guardiamo le persone guardiamo da capo a piedi e andiamo oltre facciamo dei ragionamenti per la vita delle persone quando le persone stanno in qualche modo stanno cercando Dio in qualche modo perché l'umanità ha bisogno delle cose spirituali o in un modo o in un altro modo l'umanità è la ricerca delle cose spirituali e se non va se non conosce Gesù va alla ricerca dei maghi dagli stregoni dagli indovini frequentano una setta perché ha bisogno di qualcosa della risposta spirituale cartomanzia lettura delle carte oroscopo giochi spirituali indovini gioco con la bottiglia il pendolo di tutto e di più ma la risposta per l'umanità è Cristo Gesù la risposta per l'umanità è Cristo Gesù la risposta per la vita di ogni persona è Cristo Gesù e noi prima dobbiamo consapabilizzarlo noi dobbiamo consapabilizzare noi dobbiamo avere una ripresa di coscienza perché le persone hanno bisogno di Gesù e la risposta per ogni persona si chiama Gesù non si chiama buon lavoro non si chiama buon stipendio non si chiama buon uomo né buona donna non si chiama buona città né chiesa la risposta per ogni bisogno delle persone è Gesù allora tu ed io dobbiamo consapabilizzare prima perché se tu ed io non abbiamo consapabilizzato che Gesù la risposta anche per la nostra vita perché forse noi siamo partiti bene ma cammin facendo ci siamo allontanati da Gesù abbiamo fatto un sistema anche di Gesù ma Gesù è la via la verità è la vita e la Bibbia dice nessuno va al Padre se non per mezzo di Gesù e quindi dobbiamo consapabilizzare che se noi vogliamo ottenere qualcosa di Gesù dal Padre dobbiamo andarci nel nome di Gesù e per mezzo di Gesù l'altra cosa che fece Gesù dice mi ha mandato per fare cosa per guarire quelli che hanno il cuore rotto consolare tutte quelle persone che stanno male quelle persone che non hanno più speranza quelle persone che sono dice non c'è più niente da fare quelle persone che forse è arrivata una cattiva notizia dice il medico mi ha detto che non c'è più niente da fare siediti con una persona e piuttosto che dire poveretto ti capisco quello che stai attraversando ti comprendo sai perché anche il nonno del mio nonno del mio sminon allora mio padre mi ha raccontato posso capirti perché mio padre mi ha raccontato questo e mi ha detto sì però Signore consolerà il tuo cuore e il Signore ti dice senti io voglio usare te per consolare il suo cuore perché lui a me non mi conosce e Dio dice io voglio usare te per consolare il suo cuore ma permetti che io posso passare attraverso di te permetti che posso mettere le mie parole nella tua bocca perché tu possa parlare a lui e al suo cuore possa essere risanato oppure prendi dal sacco della tua farina per dare allora credo che ognuno di noi deve avere un orecchio sempre aperto per ascoltare dal padre per essere un canale per guarire la vita delle persone Gesù diceva io non dico niente se non quello che ho ascoltato dal padre mio e Gesù aveva una parola per ogni persona che incontrava diversa l'uno dell'altro e Gesù aveva consapevolizzato questo dice egli mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto ci sono tante persone fratelli che hanno il cuore rotto dice per proclamare la liberazione ai prigionieri ci sono persone che sono prigionieri prigionieri della pornografia prigionieri dell'alcol prigionieri della droga prigionieri delle slot machine prigionieri dei giochi d'azzardo prigionieri del casino prigionieri perché hanno bassa stima perché si sentono inutili si sentono incapaci senza valore senza futuro persone che continuamente parlano negativamente pensano che per loro non ci sarà un futuro ma Gesù è venuto a dare speranza e futuro la Bibbia dice pensieri che ho per voi che medito per voi la Bibbia dice sono pensieri di pace non di male per darvi un futuro e una speranza e poi dice il recupero della vista ai ciechi portare le persone a vedere Gesù a vedere una nuova vita che ci può essere un nuovo inizio ci sono tante persone che già a 30 anni è come se avessero 50, 60, 70 anni si sentono già vecchi sono arrivati alla fine che desiderano già di morire perché si sono stanchi e non vedono non hanno più prospettiva di vita ci sono giovani che vanno a scuola giovani a 20 anni che dico ma sono stanchi della vita come anche io a 20 anni era già stanco della vita perché sentivo il carico nelle mie spalle del peccato mi portava sopra le spalle il carico del peccato e la Bibbia dice che Gesù è venuto per ridare la vista ai ciechi poi dice per rimettere in libertà gli oppressi e per proclamare l'anno accettevole del Signore questo è quello che Gesù aveva consapevolizzato e questo è il mandato che Gesù diede alla Chiesa l'ha dato già è come quando devi andare a ritirare ti vengono fatta la delega per andare a ritirare una raccomandata all'ufficio postale ti è stata fatta la delega per andare a ritirare tu non sei il destinatario ma il destinatario ti ha autorizzato per andare a prendere la raccomandata e portarla in mano del destinatario tu hai avuto la delega di Cristo Gesù per prendere le persone e portarli a Cristo Gesù Gesù ti ha delegato il mandato è il mandato legale che Gesù ha dato alla Chiesa per prendere le persone e portarli a Cristo Gesù il diavolo qua sulla terra è illegale perché si tiene schiavi le persone lui è illegale le persone non sono suoi sono suoi schiavi ma dobbiamo tirarli fuori dalla sua schiavitù e questa responsabilità cari miei ce l'ha la Chiesa di Cristo Gesù e il tempo tutti i giorni che passiamo qua sulla faccia della terra senza adempiere il mandato noi ci stiamo assumendo un carico di responsabilità che un giorno dovremmo rendere conto davanti a Dio cosa hai fatto mentre eri qua sulla terra cioè ma sai io non sapevo evangelizzare quanto meno potevi pregare quanto meno potevi parlare dire mi vuoi istruire mi dici come si evangelizza mi incoraggi come posso fare ad evangelizzare vai a studiare chiedi allo spirito santo pieghi le ginocchia ardi nel cuore dice signore dammi dammi signore uno spirito dammi un unzione per evangelizzare dammi il cuore per le persone perdute per le persone che stanno morendo signore dammi la capacità l'abilità di parlare alle persone a quelle persone che ancora non ti conoscono e che stanno soffrendo sono disperata senza speranza come una volta ero pure io disperato e senza speranza ma sembra che oggi la chiesa sia diventata impassibile abbiamo fatto l'abitudine non è vero che abbiamo fatto l'abitudine sì abbiamo fatto l'abitudine ci siamo messi per certi versi la coscienza a posto sono stato salvato sono stato salvato vado in chiesa sono presente pastore la domenica sono presente visto mi faccio il servizio sono qua dobbiamo offrire offriamo devo fare questo lo faccio sono qua signore non è quello il mandato che Gesù ci ha dato il mandato che Gesù ci ha dato andate a predicare l'Evangelo ovunque vi trovate predicate l'Evangelo il mandato che Gesù ha dato predicate l'Evangelo ad ogni creatura strappate persone dal regno delle tenebre e fategli conoscere la grazia di Cristo Gesù questo mandato ce l'abbiamo tutti quanti noi io credo che dovremmo fare un black out fermarci tutti e la prima cosa da fare al primo posto ci deve essere l'amore per le persone predicare l'Evangelo alle persone portare speranza portare la grazia portare Gesù andare dentro le case delle persone e portare Cristo Gesù che cosa è diabolica a casa tua se c'è una famiglia di otto persone due devono stare fuori perché più di sei persone a casa tua non li puoi avere il diavolo vuole distruggere quello che si chiama famiglia sia naturale che spirituale il diavolo sta usando dei macchinegni molto sottili per limitare le persone per limitare la Chiesa per limitare la fratellanza per limitare l'unità familiare e la Chiesa cosa sta facendo io credo che questo è tempo dove Dio sta facendo sorgere una nuova Chiesa una nuova Chiesa che ha passione per Cristo Gesù che persone come Stefano come Pietro come Paolo come Matteo persone veramente di spessore che sono pronti a farsi uccidere pur di predicare Cristo Gesù autore e compitore della fede Amen Alleluia Gesù quanto sei disposto a pagare il prezzo per Gesù lui ha pagato tutto per te lui non ha fatto sconti sulla croce per amore tuo per la tua salvezza dove saresti oggi se Cristo non fosse arrivato nella tua vita io te lo posso dire come pastore dittimi non sarebbe qua se Cristo non fosse arrivato nella sua vita se lui non avesse aperto il cuore a Gesù non lo so in quale carcere se sarebbe in carcere a Udine o in quale altro carcere sarebbe non lo so Gloria dove sarebbe sicuramente non sarebbero sposati non lo so Gloria dove sarebbe non so Marta dove sarebbe se Cristo non fosse arrivato nella sua vita non so se Maurizio non so dove sarebbe Maurizio se Cristo non fosse arrivato nella sua vita non so la sua famiglia dove sarebbe se Cristo non fosse arrivato nella sua vita se lui non avrebbe aperto il cuore a Cristo Gesù se non avesse sperimentato la gloria di Cristo Gesù e cosa ne fai di questa perla preziosa cosa ne hai fatto di questo talento si è andata a sotterrarlo e Gesù è degno di essere sotterrato di essere sapolto o la Bibbia dice che la morte non ha potuto trattenere Gesù è uscito da sottoterra tu cosa fai lo sotterri di nuovo tu ed io lo sotterremo di nuovo parliamo di organizzazione parliamo di eventi parliamo di fare studi parliamo di questo quando parliamo di Gesù noi facciamo gli studi organizziamo tutto ma il fine l'obiettivo la meta è predicare Cristo Gesù perché la chiave per aprire il carcere dei prigionieri è Cristo Gesù i prigionieri sono le persone che non conoscono Cristo non è un carcere fatto di mattoni ma sono prigionie spirituali dove la chiave era per aprire queste prigionie è Cristo Gesù e tu edì abbiamo la responsabilità di usare questa chiave non di usare Cristo Gesù ma usare la chiave il nome di Gesù per aprire il carcere dei prigionieri per rimandare liberi quelli che sono sotto schiavitù gli oppressi tu edì abbiamo la responsabilità oggi più che mai di predicare Cristo quanti non lavorano qua uno due tre quattro cinque cosa fate durante il giorno andate evangelizzare no andate evangelizzare lavorate per il regno di Dio non siate disoccupati perché non c'è contribuzione per i disoccupati l'assistenza sociale e il governo dà il reddito di cittadinanza ma da Dio non arriva il reddito di cittadinanza a persone che non fanno niente tutti siamo chiamati a lavorare per il suo regno e anche quando non lavoriamo perché non abbiamo un'occupazione secolare dobbiamo lavorare per lui e lavorare per lui significa andare delle persone e predicare Cristo fatti dei bigliettini dei volantini la mattina ci sono le mamme che vanno a lasciare i bambini a scuola con massima cautela allunghi il braccio gli dai un bigliettino l'evangelizzo gli fai ti togli un attimo la mascherina gli fai un sorriso gli dici Dio ti ama e dai speranza alle persone mettiti davanti un supermercato e tutte le persone che passano gli dici buongiorno Dio ti benedica non è occupazione di solo pubblico e improprio stare in piedi ma è un servizio che sta rendendo a Dio per benedire la vita delle persone e chissà se in 200-300 persone che incontri forse anche una sola persona è una persona che sta cercando Cristo ma per Dio una sola persona è importante per noi forse una persona non è importante ma per Dio una persona è importante e tu ed io dobbiamo avere la mente di Cristo Gesù Gesù andava attorno facendo del bene voglio fermare qua questa sera altrimenti mi proterrirei fino a domani mattina è importante che tutti quanti noi predichiamo Cristo Gesù ma come devo fare semplice Gesù ti ama Gesù ha piani meravigliosi per la tua vita Gesù vuole provvedere per i tuoi bisogni per il tuo matrimonio per la tua salute un sorriso ti puoi abbassare la mascherina e fare un sorriso e poi te la metti di nuovo lo puoi fare con uno sguardo sorridi anche con gli occhi ti fai un bigliettino un volantino e lo dai lo porgi lo metti là e dici guarda tieni questo è per te un messaggio dal cielo Dio ti ama lui è un piano meraviglioso per la tua vita manda un messaggio ai tuoi amici manda un messaggio alle persone ai tuoi contatti telefonici prenditi un versetto biblico lasciati ispirare manda al tuo datore di lavoro un messaggio al tuo coinquilino al tuo dipendente quello che sia manda e incoraggia ci sono tanti mezzi per evangelizzare le persone noi presto faremo fare dei cartelloni per la città di Udine qualcuno mi ha ispirato abusivamente a di farlo mi ha dato qualcuno un'idea qualcuno dice ma in chiesa mi date altri cinque minuti no ma perché ma perché ma perché dobbiamo dare in chiesa sai perché dobbiamo dare in chiesa perché la chiesa debba avere così tanti soldi che nei cartelli degli autobus dei pullman anziché di esserci messo sexy shop dobbiamo dobbiamo metterci Gesù ti ama anziché di metterci porcherie e usare gli autobus e fare usare i cartelli pubblicitari per il peccato la chiesa di Cristo Gesù ha il compito di investire anche per questo i cartelli pubblicitari che ci sono nelle piazze e i display che ci sono per la pubblicità le serpentine piuttosto che essere usate per il peccato per tutte le cose peccaminose devono essere usate per Cristo Gesù perché le persone possano guardare le riviste devono essere usate per predicare Cristo la televisione deve essere usata per predicare Cristo la radio deve essere usata per predicare Cristo ma bisogna vedere se almeno tu ci preghi c'è stare che investi ma almeno che ci preghi quello non ti costerà nulla almeno pregaci accordati con me e chiedi allo Spirito Santo Spirito Santo manda sostenitori che possono avere il cuore sostenere finanze perché arriveremo ad avere le televisioni ad avere la radio ad avere cartelli pubblicitari ad avere sui pullman la pubblicità che Gesù ama ogni persona Gesù è speranza per l'umanità che Gesù sa comporre la vita delle persone che possiamo montare un grande palco a Piazza Primo Maggio per glorificare Cristo Gesù non una volta sola ma lasciarla in pianta stabile il popolo di Dio è un popolo di mente aperta il popolo di Dio è un popolo che ama l'umanità e quando vede le persone che camminano per le strade come zombie con la faccia a terra tutti tremanti tutti paurosi il popolo di Dio è un popolo che deve avere compassione per quelle persone e dire Signore usami usami perché possa arrivare la parola di Dio a questa persona Signore usami per toccare questa persona usami per benedire questa persona Signore abbonda le mie finanze non perché io possa essere gonfio Signore ma perché possa aprire un negozio e dare posti di lavoro Signore abbondami di finanze perché possa supplire a quella persona anziana che non ha come arrivare a fine mese e la possa aiutare e la possa sostenere Signore aiutami per benedire questa persona Signore abbondami Signore per aprire una scuola primaria Signore abbondami perché io possa fare possa aprire un asilo Signore e prendere tutti i bambini che le mamme non vogliono che i genitori vanno lasciando destra e ammanca Signore dammi abbondami da fai che io possa avere possibilità di pagare delle maestre cristiane e stipendiali e accogliere tutti i bambini questo è il regno di Dio sai perché questi bambini diventeranno adolescenti giovani adulti e questi bambini se cresceranno con identità sarà a tuo favore ma se cresceranno senza identità sarà a tuo sfavore e a mio sfavore evangelizzare significa anche questo significa anche pensare alla prossima generazione i bambini cosa faranno domani chi saranno gli insegnanti dei tuoi figli oh mi devo sposare voglio mettere un bambino al mondo bambini miei e chi sono gli insegnanti dei tuoi figli ci hai almeno pregato almeno pregato a dire signore suscita uomini di affari che investono per la chiesa uomini che possano mettere edifici a disposizione possiamo aprire una scuola perché i miei figli domani possono andare in una scuola cristiana dove prima di ogni cosa prima di iniziare la lezione si possa pregare e invitare il re del re il signore dei signori nella classe nella scuola dove i miei figli possono essere coperti col potente sangue di Cristo Gesù e possano crescere con un'identità possano crescere con valori spirituali morali ma oggi sapete cosa sta accadendo nella chiesa neanche i genitori pensano per i bambini del futuro dei bambini i genitori neanche i bambini portano in chiesa questo è un dramma fratelli perché i bambini diventeranno adolescenti giovani e come saranno questi giovani non avranno messo il seme del timore di Dio come cresceranno chi saranno saranno i prossimi rapenatori saranno i prossimi drogati saranno i prossimi trafficanti evangelizzare è anche questo iniziare sin dalla piccola e tenera età a mettere il timore di Dio quello è anche modo di evangelizzare evangelizzare è anche andare a trovare uomini d'affari dire sa lei vuole investire per il regno di Dio lei vuole investire le sue finanze con un'assicurazione che non fallirà mai metta uno dei suoi locali a disposizione io l'ho fatto col proprietario dice ma le interessa l'appartamento l'ha regalato sì e dice se erano altri tempi l'avrei fatto no guarda lei se vuole lo può fare anche adesso siamo online bene io ho detto quanto tempo che non prendi affitti da questo locale e quanto pensa che ancora dovrà stare chiuso questo locale ah dice non lo so ah non sarebbe meglio metterlo a disposizione per il regno di Dio gli altri locali quanti anni sono stati chiusi ancora sono chiusi lei l'ha messo questo a disposizione per il regno di Dio e ha ricevuto i soldi se tu fai investimento per il regno di Dio avrai un'eredità fammi conoscere persone che hanno proprietà che ci vado a parlare io perché Dio prenderà le ricchezze degli ingiusti e le darà i giusti o in un modo o nell'altro le persone arriveranno un giorno a dire ma guarda un po' da questo non prendo affitto è meglio darlo ai cristiani che fanno cose utili per l'umanità questo è un modo di evangelizzare ci sono diversi modi di evangelizzare ma tutto parte da una cosa quello che si chiama cuore l'uomo dal suo buon cuore ne trai no c'è un altro forse guadagno bravo quindi dobbiamo stare attenti al nostro cosa c'è nel tuo cuore il desiderio di avere una famiglia il desiderio di avere una famiglia sana se il tuo desiderio è sperimentare Cristo la tua famiglia sana è una conseguenza dell'avere sperimentato Cristo nella tua vita perché se realmente sperimenti Cristo nella tua vita la famiglia sana è una conseguenza perché è già nel cuore del padre poter benedire la tua famiglia ma tu devi mettere al primo posto Dio è una conseguenza la famiglia sana il lavoro il successo il ministero e tutto quanto ma se Cristo non diventa la tua priorità tutto il resto diventano cose vane e cose futili per questo è importante predicare Cristo io questa sera voglio fare una domanda quanto persone qua dentro ancora non hanno la certezza di avere Gesù nel cuore ma sentono il desiderio di dire io voglio permettere a Gesù di entrare nel mio cuore ora certo non è Gesù materiale che entra nel tuo cuore non è la tua testa ma è spirituale se ci sono persone in mezzo a noi che ancora non hanno la certezza di avere Gesù nel proprio cuore io ti voglio invitare questa sera a sperimentare Cristo Gesù sai io il 20 luglio del 1996 quando ho fatto la mi è stato rivolto un appello come ti sto facendo io questa sera io non capivo niente ho detto ho fatto un'azione di fete ho detto boh anche io voglio fare questa preghiera e pensavo che accadesse una magia accadesse un cambiamento subito che mi crescevano più capelli che diventavo più alto più magro ma niente di tutto questo ho compreso solo una cosa che dal giorno in cui ho fatto quella preghiera iniziò a cambiare il mio cuore iniziò ad entrare una pace che non avevo mai sperimentato con nessuno e con nessuna cosa iniziò a venire un cambiamento un processo di cambiamento e di trasformazione nella mia vita dove sono arrivato e sta continuando questo processo sono arrivato fin qua per questo io questa sera ti voglio incoraggiare non uscire da questo luogo senza averti portato la parte della tua della tua eredità ma permetti a Cristo Gesù di entrare nella tua vita nel tuo cuore perché Lui possa essere la risposta per il tuo bisogno perché so che c'è un bisogno nella tua vita so che ci sono tanti bisogni ci sono tanti punti di domanda nella tua vita ci sono tanti desideri e la risposta ai tuoi desideri la risposta alle tue domande la risposta ai tuoi bisogni la risposta alle tue perplessità la risposta alle tue paure la risposta ai tuoi progetti la risposta ai tuoi sogni e si chiama Gesù non c'è altra persona per favore io non voglio che tu questa sera possa uscire di qua senza aver ricevuto Cristo Gesù senza aver detto a Gesù Gesù io ti ricevo nella mia vita come mio Signore io voglio fare un'esperienza con te io voglio conoscerti personalmente e mentre tutti quanti siamo con gli occhi chiusi per favore chieniamo il capo in segno di onore di rispetto davanti alla meravigliosa presenza di Dio perché Lui è qua questa sera voglio guidare quelle persone che vogliono fare questa preghiera quelle persone che vogliono ricevere Gesù nella propria vita ripeti dietro a me io ti guido con le parole e tu ripeti ripeti dietro a me insieme a tutta quanta la Chiesa Signore io questa sera vengo davanti a te nel nome di Gesù ti chiedo perdono per tutti i miei peccati ti chiedo perdono per averti voltato le spalle caro Gesù io questa sera voglio prendere un impegno voglio prendere un impegno con te e ti ricevo nella mia vita come mio Signore caro Gesù so che tu hai le chiavi per aprire tutte le porte del mio cuore per aprire le porti del carcere per farmi uscire fuori dalla prigionia spirituale dai brutti pensieri che ho dalla bassa stima che ho di me dalla paura del futuro grazie caro Gesù perché questa sera tu hai cambiato la mia vita il mio destino il mio presente e il mio futuro e grazie perché il mio passato da questa sera in poi è stata cancellata nel nome di Gesù Signore io ti ringrazio perché tu mi hai accolto nella tua famiglia come un figlio e io ti chiedo caro Padre nel nome di Gesù di continuare a amministrare alla mia vita e battezzarmi col tuo santo spirito nel nome di Gesù nel nome di Gesù Amen Amen e Amen Alleluia Jesus Alleluia Jesus Alleluia Alleluia